Non sapete dove siamo, vero? E' il consetto di la cassette! Aspettate! Adesso si va! Le prof e vabbè, d'altronde, il concetto di H7, però quelli figli siete voi, aspettate! Aspettiamo, vediamo! Ragazzi, guardate che sfidate! Questi sono tutto l'Atlantico, Piero Vicente Veraca! Era una serata pazzesca, seguiteci! Vasi! Ma! Vasi! Rai! Vasi! 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 Grazie a tutti.